www.feyyaz.com 8 per girare 8, 7, 7, 5, 8 e perfetto giù ma che siamo? crunch 8, 7 senti la contrazione sotto l'umelico apri bene i vomiti guardati le scarpe in aria 8, si deve alzare leggermente il sedere tirate sui culetti vai ancora 4, 3, 2 slancio per salire buon qua dove andate il piede? non è qua non è vero perché ci si è quella casa al nome che spinge verso l'ultima costituzionale che è la rotina dritta vai ragazzi 3, 2 scendi giù la costituzionale ora accompagna con calma e vai col crunch oh dai che lo facciamo per recupero è l'ultimo pezzo che va aggiunto alla sequenza 4 3 2 carica e sali 8 squat 4 muore e salta 8 salta 7 6 6 5 vai ancora 3 4 3 2 vai carica Vai che andiamo ancora, 8 respira, 3, 2, 1, carica e corri, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, apri e chiudo.